questa è una poesia su roma ascoltate stupenda e misera città che mi ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre come andare duri e pronti nella ressa delle strade rivolgersi a un altro uomo senza tremare non vergognarsi di guardare il danaro contato compigredita dal fattorino che suda contro le facciate in corso in un colore eterno d'estate stupende misera città che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo allora era abbiamo disturbato un film di marco tulio giordano soprattutto una poesia di pasolini per introdurre il tema di oggi coffee break vi diamo naturalmente il benvenuto ci sono ancora io perché tiziana panella un imprevisto tornerà alla prossima settimana dicevamo questa poesia per introdurre il tema di oggi che inevitabilmente roma roma il decreto salva roma ritirato dal governo la prima grana per matteo renzi e anche la prima lite fra sindaci ex sindaco renzi con il sindaco di roma marino allora vi presento i nostri ospiti innanzitutto c'è fabrizio rondolino giornalista collaboratore di europa poi c'è emanuele fiano del partito democratico area franceschini area dem noi diciamo qui aveva fiano area fiano si tutti dicono così però poi le aree ci sono e poi c'è andrea romano che è il capogruppo di scelta civica alla camera poi avremo speriamo in collegamento abbiamo qualche problema tecnico in collegamento da trieste la lega rappresentata da federico fedriga allora io comincerei subito da questa da questo caso salva roma però prima ancora di darvi la parola vorrei far sentire subito che cos'è che ha fatto tanto arrabbiare matteo renzi e che ha aperto il caso le parole esatte del sindaco ignazio marino in questo momento io non ho davvero nessun interesse nessun desiderio di mettere la mia faccia di fronte al a un disastro che era evidentemente annunciato o qui si prende seriamente in considerazione il fatto che questa è la capitale d'italia se si capisce che per fare questo c'è bisogno perché questa è la capitale di un intervento del governo io sono disponibile perché è anche onorato perché sono stato eletto dai cittadini se invece l'idea è che roma deve chiudere l'atac deve portare i libri in tribunale l'ama debba fallire e essere venduta la cea debba liquidare le quote le quote pubbliche e il personale del del comune i 25 mila dipendenti del comune devono essere in gran parte licenziati io non sono disponibile quello è un altro lavoro e verrà un commissario liquidatore a licenziare migliaia di persone e a vendere tutte le aziende io da domenica blocco la città una cosa precisa quindi le persone le persone dovranno attrazzarsi fortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu lo potranno continuare a girare i romani invece non potranno girare fin qua allora domenica domenica si blocca roma allora abbiamo sentito proprio dalla viva voce queste sono le parole che hanno fatto tanto arrabbiare matteo renzi però che cosa è successo ritirato il decreto questo decreto conteneva dei soldi che servivano a ridurre insomma risolvere almeno in parte a tamponare l'enorme debito che a roma e il sindaco ha fatto questa minaccia risultato è che tra poco alle 10 e 30 si riunisce il consiglio dei ministri effettivamente un decreto renzi dovrà farlo invece voleva intervenire con un altro strumento allora comincio naturalmente ed emanuele fiano in quanto esponente del partito democratico il partito più ampio ovviamente della coalizione di governo allora fiano questo pasticcio ma intanto secondo me va detto che i due protagonisti della vicenda non c'entrano col problema perché ignazio marino ha ereditato da alemanno non da quelli precedenti da alemanno 867 milioni di debito del comune di roma dico da alemanno perché il precedente debito che assomma 16,7 milioni di euro miliardi di euro un debito pazzesco che ha il comune di roma pazzesco quasi 17 miliardi di euro è stato diciamo sistemato in una ristrutturazione del debito per la quale si pagano degli interessi ma diciamo ci sono delle garanzie a copertura ignazio marino ha iniziato e si è trovato questo nuovo buco che riguarda i cinque anni di alemanno non c'entra ovviamente matteo renzi perché si è trovato appena ha insediato sia palazzo chigi un decreto che aveva ancora tre giorni quattro giorni per essere convertito alla camera e si è trovato che i cinque stelle che avevano già qualche problema hanno trovato un bel boccone molto appetitoso sul fatto di fare ostruzionismo e fare come primo atto di governo di matteo renzi che il primo atto di governo di renzi fosse il ritiro del del decreto dopodiché la capitale la capitale ovviamente ha dei problemi che sono molto superiori alle possibilità di un uomo solo come il sindaco di una giunta e dei problemi che non sono dovuti solo agli abitanti di roma ma alla mole gigantesca i turisti che ci arrivano e il governo sicuramente oggi ci metterà a mano il problema va va risolto è chiaro che roma è in una situazione straordinaria certo non si può continuare così cioè non è che possiamo continuare a pensare che tutti gli anni gli italiani debbano pensare a delle soluzioni specifiche per il comune di roma però i protagonisti che oggi sono nel centro della vicenda forse sono i più innocenti ignazio marino ha usato parole che forse poteva evitare allora andrea romano ignazio marino ha esagerato nella sua reazione o comunque ha ottenuto qualcosa perché sappiamo che il governo voleva intervenire in un altro modo non voleva fare un decreto la ragione anche per cui ha ritirato questo decreto è che lo avrebbe avrebbe dovuto mettere la fiducia andare incontro all'ostruzionismo del movimento cinque stelle della lega adesso spero che riusciremo a sentire fedriga fra poco però insomma se non minacciava il blocco non si faceva decreto io lo dico a male in cuore perché ignazio è un amico pubblicato anche sui libri nella mia vita precedente ma ha fatto un gravissimo errore il sindaco di una grande città non usa quelle parole non minaccia di chiudere la capitale non si lava le mani di fronte alle proprie responsabilità ignazio marino mi dispiace di non essere d'accordo confiano non è l'ultimo arrivato e sindaco di roma da molti mesi è chiaro che la responsabilità del debito non è tutta sua sono state amministrazioni precedenti ma noi come interpreteremo matteo renzi se dicessi ragazzi non posso fare niente perché sapete chi è venuto prima di me mi ha lasciato questo questo non si fa ignazio marino è stato eletto sindaco dai romani e alla responsabilità della situazione attuale ce l'ha procuota per carità però deve affrontare questa situazione non può rivolgersi al governo e al parlamento dicendo o mi date i soldi o chiudo la città anche perché francamente io mi aspetto ancora da ignazio marino dei provvedimenti molto coraggiosi sulle municipalizzate su scelte coraggiose che deve fare su tutto quello che che compete a lui per esempio la ristrutturazione del passivo che hanno queste municipalizzate processi di razionalizzazione dei dipendenti tutte cose che noi chiederemo ai nostri amministratori chiediamo io sono anche cittadino di roma chiedo al mio sindaco un sindaco soprattutto in una grande città non può limitarsi a dire mi dovete dare i soldi è una modalità che non è ammessa quindi io credo che lui abbia fatto una pessima figura mi aspetto da renzi che renzi provveda oggi non tanto a dare un elemosi nel roma ma a chiedere che in cambio di queste risorse vi sia una come dire un rigore di bilancio molto stringente sul modo in cui il sindaco gestirà le municipalizzate tra l'altro scelta civica al senato quando avevamo discusso questo provvedimento scelta civica nel mio partito aveva chiesto che vi fossero dei vincoli molto stretti nella gestione delle municipalizzate perché questo è il vero come dire la vera malattia i numeri sono spaventosi sono 30 mila dipendenti da un sindaco innovativo come ignazio venino ci aspettiamo molto di più certamente non non possiamo essere sempre noi a pagare e vedere un sindaco che scarica la responsabilità di questa catastrofe su chi l'ha preceduto è sindaco faccia al sindaco allora io spero che mi senta federica buongiorno mi sente buongiorno mi sento bene buongiorno allora la lega è un po' responsabile di questo pasticcio perché la minaccia dell'ostruzionismo insieme naturalmente al movimento 5 stelle è venuta da voi ma possibile che non ci sia però anche la considerazione che roma d'accordo fare come dire tutte le spinte il nord localistiche eccetera però insomma roma dovrebbe essere un po patrimonio di tutti come sono in parigi in francia londra cioè sono patrimonio di tutti si bene ma il patrimonio di tutti penso che siano tutti i comuni del nostro territorio e sembra assolutamente iniquo che in un momento nel quale i comuni virtuosi sono costretti a tenere i soldi che hanno messo via con parsimonia in cassa a causa del patto di stabilità qualcun altro possa continuare a spendere sperperare io ho sentito il collega fiano che ha parlato del debito di roma pregresso allo stato attuale però a noi non è dato sapere con certezza a quanto ammonta il totale del debito di roma capitale in secondo luogo per chiedere sì ma non è non è così onorevole fiano perché noi abbiamo una relazione tecnica che parla di 18 miliardi complessivi ma un debito ancora non totalmente quantificato ed è drammatico che un comune anzi il comune della capitale d'italia non abbiamo nemmeno la certezza di che buco ci sia realmente intanto state vedendo la regia sta inquadrando i titoli dei giornali di oggi per dire che roma oggi certamente non è un problema locale mettiamola così scusi federica federica e si e poi altrettanto giustamente il collega fiano ha ricordato che da quando era stata fatta nel 2008 la prima operazione per cercare di mettere a posto i conti di roma si è accumulato quasi un altro miliardo di debito allo stato attuale vorrei domandare cosa diciamo a tutti quei cittadini che pagano le tasse nei loro comuni e una parte di quelle tasse si vuole di nuovo utilizzarla per andare a far pagare una cattiva amministrazione ricordo per esempio che una società del comune di roma lama che ha 670 milioni di debito con le con le banche tra il 2008 e il 2010 in tre anni ha assunto 1518 persone adesso quindi o roma presenta un piano di ristrutturazione credibile che preveda dei tagli forti ed eliminazione netta degli sprechi altrimenti noi non ci stiamo più a continuare questo diciamo rincorsa al debito di roma il decreto il decreto che farà il governo deve essere anche vincolato ad altre misure allora fabrizio rondolino che sei non sei romano insomma vivi a roma da tanto e soprattutto vedi la dimensione politica di questo caso allora sì insomma in effetti un problema di responsabilità che non vengono mai indicate c'è anche alemanno quando si insediò disse però veltroni ha lasciato un debito spaventoso poi lui però più che fare piani di rientro no fecero appunto questa fecero questa bad company questa questa doppia contabilità no però c'è un tema di come intervenire che è subito nel sul tavolo di renzi subito nella sua fretta nella sua velocità sì si chiama si si chiama default controllato o commissariamento o come lo vogliamo chiamare e proprio perché la responsabilità in italia non è mai di nessuno e ciascuno con un elemento di verità la attribuisce a quello precedente esistono le procedure diciamo così oggettive no che negli stati uniti vengono praticati regolarmente ha fatto default la california cioè non è che una cosa da niente e dal default la california è venuta fuori una california migliore più moderna più perché come si usa anche dire ma non si fa mai le crisi sono anche delle opportunità non sono soltanto delle catastrofi allora è evidente che il sistema roma così com'è non può funzionare è assolutamente evidente perché appunto non abbiamo abbastanza citato i dati ma io ne ho vedi alcuni in questi giorni sui giornali e cioè per dire attac quella che sono gli autobus per chi non è di roma 12 mila dipendenti quasi più o meno all'italia cioè più o meno i dipendenti all'italia di questi 12 mila 1.400 ogni giorno stanno a casa sono assenti giustificati mille quasi più del 10 per cento di assente ismo così illegale e perdono tutti il complesso di dipendenti e il doppio di quelli che c'è la fiat c'è il comune di roma deve mangiare più gente di quante anni di amarchione e contassi appunto di inefficienza di sprechi di 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 che veramente gridano allo scandalo cioè qui è un'intera classe io poi non lo so sia sicuramente alle mani ha fatto un disastro ma sicuramente marino prima sicuramente prima c'era qualcosa hanno fatto disastri anche per rutelli e sicuramente marino non è andato nella nella direzione che poi e lui che poi alla fine è l'unica che ci sono andata lo dice sempre l'anzillotto però insomma è anche abbastanza ovvio l'anzillotta che però poi l'anzillotto è l'immigrazione il bilancio ha curato il bilancio per nove anni questa è la critica per sei anni sono sei anni non si sbaglia marino quando dice nove e comunque negli anni poi risponderò l'anzillotta negli anni di rutelli le cose non andavano così l'anzillotta le idee chiare no che sono anche idee abbastanza ovvie secondo me cioè appunto se un azienda ci sono tre aziende pubbliche che non funzionano e che perdono un sacco di soldi proviamo a privatizzare però mi pare che tu stai introducendo il tema fare default si io penso di sì ma perché per chiarire un punto il default non è una cosa punitiva il default è una cosa che consente al prossimo che verrà che ovviamente non è marino di governare liberamente questa città e di essere giudicato per quello che lui sa fare perché a quel punto lì una serie di problemi saranno saranno risolti saranno quantomeno affrontati sì allora sentiamo chiedere chi è d'accordo e chi no su questo su questo passaggio secondo lei cosa deve fare oggi mi sembra l'unica mi sembra l'unica via un commissariamente immediato della città marino marini ha dimostrato anche rispetto devo dire alle dichiarazioni farneticanti che ha fatto nella giornata di ieri di non essere all'altezza di gestire una situazione così delicata è inutile come giustamente è stato ricordato continuare a dare la colpa al predecessore sicuramente tutti hanno la colpa ma nessuno ha avuto la soluzione a questo punto un commissariamento che preveda anche il default può essere una via percorribile perché prima stavo finendo di dire se incominciamo su questa strada il prossimo carrile napoli ricordo che napoli darà relazione della corte dei conti e non dagli uffici di milano della lega nord è risultato che ha un è sull'orlo del fallimento con un mancato pagamento da parte dei cittadini di napoli di tasse e multe per il 50 per cento un cittadino su due non paga tasse e o multe se noi vogliamo far passare che se esistono situazioni del genere tanto c'è sempre pantalone che paga io credo che a questo punto tutti i cittadini di tutto il paese dal nord al sud siano legittimate per lo meno uno su due a non pagare più tasse e multe quindi o torniamo in una situazione normale e di regole e di giustizia tra i vari territori altrimenti da questa situazione oppure che non si uscirà mai allora fiano default è vero che ci sono altre città sul loro del baratro oltre a napoli adesso come diceva fedriga c'è anche palermo c'è quello lino nessuno ne parla torino c'ha tre miliardi di buco post olimpico voglio anche il nord qualche volta voglio beh ha fatto bene fabrizio randonino ricordare la città del nord lì probabilmente sono gli effetti degli investimenti effettuati per le per i giochi invernali e no voglio peraltro ricordare a massimiliano pedriga non so il suo voto personale non me lo ricordo ma che durante il governo berlusconi il parlamento risanò debiti di un'amministrazione di centrodestra di catania che aveva vicino al miliardo di di buco quindi non non restringiamo solo la vicenda di roma perché ha avuto vari colori insomma l'idea che in parlamento si risolvessero i buchi di bilancio dei comuni secondo me prima di tutto è sbagliata quest'idea cioè dobbiamo deciderci se siamo un paese che cerca una autonomia locale molto sviluppata il fatto che il parlamento intervenga su dei problemi locali già di per sé in parte contraddittorio io non so se poi bisogna vedere cosa vuol dire esattamente il default controllato so di certo che servono misure straordinarie radicali dicevamo prima con andrea romano nel decreto salva roma che il governo ha lasciato decadere c'erano delle c'erano delle blande misure di controllo del bilancio del comune di roma invece secondo me se in qualche modo il governo intenderà intervenire su roma serve un patto tra chi dà dei soldi serve che palazzo chigi come dire si attribuisca una funzione di controllo maggiore c'è un intervento straordinario se noi dobbiamo dire se c'è un intervento straordinario però mi pare che allora lei non è d'accordo su un'ipotesi non so che cosa vuol dire adesso per un comune che cosa sia il default controllato io so che servono misure radicali e sono d'accordo con chi ha citato prima non mi ricordo se rondolino federica romano il fatto che mentre si accumulavano quasi di nuovo un miliardo di debiti nel frattempo si assumevano peraltro con qualche scandalo se non vado errato se la memoria non non mi non mi fa sbagliare con qualche scandalo si assumevano molte persone nel comune di roma ormai l'atac l'azienda pubblica naturalmente dei trasporti conta 12 mila a proposito dei numeri che chiedeva rondolino quando il rondolino chiede 12 mila 276 dipendenti e quindi insomma in realtà poi appunto dicevamo sono 31 mila dipendenti in generale delle municipalizzate più 25 26 mila dipendenti diretti del comune assolutamente e non solo ma con sprechi incredibili con retributi qui c'è Sergio Rizzo su Corriere della Sera che dice che sul sito ufficiale del comune si trova l'elenco degli avvocati alle dipendenze dell'amministrazione sono 23 e vengono pagati un minimo di 200 minimo di 262 mila 338 euro perché prendono le commissioni sulle cause vinte e più ci sono più oltre questo ci sono le commissioni sulle cause vinte quindi insomma io sul default invece penso che abbiamo sbagliato non so in california però la battuta che mi viene facile è che non siamo la california che se introducessimo una constituzione di default nell'amministrazione pubblica italiana e locali veramente non vorrei essere negli italiani dei tanti comuni nei quali potrebbe essere usato questo strumento la cosa da fare le cose da fare sarebbero due quella di certamente rinegoziare il patto di stabilità lo ricordava fredriga ma lo diciamo continuamente anche noi quello è un patto che ha degli elementi di assurdità nel senso che costringe i comuni virtuosi a non poter perché non l'ha mai fatto nessuno adesso matteo renzi è una delle varie promesse che ha fatto a proposito delle scuole finora noi eravamo in una condizione di sospetto legittimo cioè tradizionalmente l'italia ha sforato i vincoli non per fare spesa produttiva ma per un fondo aumentare l'attesa pubblica improduttiva e questo è fondamentale che tra l'altro lo chiedo le lanci da tantissimo tempo però accanto a questo e torno sul caso roma e anche delle amministrazioni fa detto che le responsabilità eccetera però da marino ancora non abbiamo avuto una parola chiara su quello che intende fare per risanare queste municipalizzate cioè anche nel pezzo che abbiamo sentito lui ha semplicemente chiesto e va bene ma se accanto a questa richiesta dicesse il mio piano prevede ama atac eccetera di passare da così a così invece anche nella discussione sul salva roma che abbiamo fatto al senato e stava arrivando in parlamento da parte dell'amministrazione di roma c'è stata ma voi volete affamare i bambini ma voi volete privatizzare l'acqua sempre questa retorica un po come dire a mio parere leggerina per la quale chi chiede rigore nelle amministrazioni ma secondo lei dove si dovrebbero privatizzare? scusa ma guardi ma questa non è o si privatizzano o c'è il buco la questione è gestirle in maniera più sana nessuno vuole rubare l'acqua agli affetati come noi chiediamo spending review cotarelli chiediamo sulle grandi questioni nazionali un approccio più razionale così lo dobbiamo chiedere alle municipalizzate deve essere anche marino intervenire però le municipalizzate potrebbe essere anche una roba insomma un'indicazione ma tu lo sai che c'è anche una società di assicurazione di proprietà del comune di roma è l'unico caso del pianeta terra che è un ente pubblico che neanche lo stato si chiama adir una roba del genere si però poi questo significa intervenire su questo significa posti di lavoro cioè una città che evidentemente ha una larga parte della sua economia e della sua occupazione ma per esempio le farmacie che citano quell'articolo si citano le farmacie comunali le farmacie comunali sono in perdita caso unico più unico che raro perché la farmacia sta attenzionalmente un business ora quelle farmacie lì non è che sarebbero chiuse se ne stessero di essere comuni Milano le vendette quando io ero a gruppo di DS a Milano con Albertini Milano le privatizzate no volevo dire solo una cosa che mi viene in mente si poi vorrei sentire Federica però ancora no da ricordarci a margine di tutto questo che forse l'esito del decreto cosiddetto Salva Roma sarebbe stato diverso se ci fosse stato solo quello perché ricordiamoci che in quel decreto c'erano decine di altri provvedimenti che riguardano l'universo Napolitano lo aveva ritirato nella sua prima forma no perché noi parliamo come se ne avessimo discusso l'abbiamo discusso due volte perché la prima volta già era fallito però anche la seconda però Federica volevo sapere se è pentito della minaccia di ostruzionismo o in ragione anche delle cose che vengono dette qui invece si conferma che magari ha fatto bene la Lega a fare ostruzionismo su questo decreto non siamo orgogliosi dell'ostruzionismo che abbiamo fatto per evitare una misura che riteniamo assolutamente iniqua anzi ribadiamo che se il governo proporrà un facsimile di questo Salva Roma l'ostruzionismo sarà dieci volte più forte rispetto a quello che abbiamo fatto ripetiamo non possiamo pensare di premiare chi spreca e continuare a bastonare i buoni e bravi amministratori locali che abbiamo che cercano con estrema difficoltà di tenere i conti in ordine ci sono stati fatti degli esempi di comuni non virtuosi ma ricordo tra i 7 mila comuni del nostro paese che ce ne sono moltissimi che invece riescono a far quadrare i bilanci riescono a dare i servizi ai cittadini e non fanno buchi di miliardi di euro a danno della collettività Marino deve prendere atto di questo e se mi permette per quanto riguarda il decreto Omnibus sembra assolutamente anche poco serio da parte di un governo ovviamente non in quello carica ma per quanto riguarda quello precedente in quanto il decreto è stato scritto dal governo Letta che si voglia mischiare il salvataggio dei buchi di Roma con per esempio l'alluvione della Sardegna sembra veramente una misura che cerca di utilizzare un progetto buono e un intervento da fare immediatamente inserendogli dentro invece il salvataggio degli sprechi noi a questo gioco non ci stiamo e a questi ricatti abbiamo detto con chiarezza anche in aula non ci stiamo se domani il governo vuole fare un decreto sulla Sardegna noi lo facciamo approvare in mezz'ora però dice Roma deve essere a parte ma non ci possono ricattare in questo modo è sicuramente sbagliato anche dal punto di vista del rapporto governo-parlamento allora rondolino io però ho l'impressione che tutto questo ponga comunque un problema di continuità cioè di una necessità per Renzi di dare un primo segno o di continuità invece di discontinuità con i predecessori che peraltro molti responsabili della forma di questo decreto anche quella attuale sono tuttora al governo perché sappiamo che è un governo dove c'è comunque Angelina Alfano c'è comunque Dario Franceschini anche se con un altro ruolo per dire dei ministri di peso e non sono i soli quindi dici come si muoverà come si muoverà su questo? quale può essere il margine di discontinuità? anche all'interno del PD perché poi Marino è stato un renziano tra virgolette c'è anche un'affinità correntizia è però lo scontro c'è stata una telefonata di fuoco sì ma già prima la telefonata di ieri credo che si fossero un po' allontanate le strade ma comunque no sul piano politico hai perfettamente ragione lui ha l'occasione Renzi ha l'occasione stamattina di dare un segnale preciso ma mica soltanto a Roma di dare un segnale preciso alle amministrazioni virtuose perché se tu dai una bastonata tra virgolette la cattiva amministrazione ha anche un modo per premiare i buoni di dare un segnale al mondo agli investitori a questa famosa Europa perché sempre di soldi pubblici parliamo allora se lui oggi fa un decreto il default non si farà mai perché accetto le critiche diciamo che qui sono le critiche le perplessità l'hai proposto adesso sì lo proposto e ne sono convintissimo penso che questo debba venire sistematicamente per tutti gli enti locali alla fine di questo percorso avremo un po' di lacrime e un po' di sangue speriamo poco ma avremo anche un'Italia che funziona secondo me tra l'altro credo molto all'autonomia locale penso che tutta che gran parte dell'imposizione fiscale debba essere locale ma ci deve essere anche l'accountability a Roma io pago 1000 euro di tasse locale quando invece lui che non sta a Roma ne paga 400 perché la media italiana è 400 allora io pago una volta più del doppio delle tasse in cambio di niente no, questa cosa non va bene Renzi ha questa grande occasione cioè di stabilire l'ha detto accountability questo è un caso di accountability cioè se una struttura pubblica non è in grado e la sua classe dirigente di destra, di sinistra, di sopra, di sotto non è in grado allora il governo interviene con un commissario un uomo, una persona, una donna un uomo, una persona dotata di pieni poteri che faccia, che aggredisca in modo strutturale il problema sarebbe secondo me un grandissimo segnale ai buoni e ai cattivi ai buoni per dire in questo modo vi premio perché si liberano poi risorse e ai cattivi per dire è finita la ricreazione e all'Europa per dire stiamo diventando un paese serio che non guasta neanche Fiano, una domanda proprio su Marino però la sensazione è che sia una figura un po' che il PD non sente come sua che non controlla che non così anche un po' abbandonato poi lui ha fatto questo gesto molto discutibile di ieri però insomma è un po' un corpo estrano è fuori dal sistema di potere anche classico del Partito Democratico a Roma ma secondo me alla fine i politici noi Andrea Romano e Dio qui e tutti gli altri si misurano sui fatti cioè adesso a prescindere che uno sia da uno a dieci sia amico di Renzi 7 o 7,5 o 6,1 che sia amico che sia stato in questa corrente o in quell'altra che la sua corrente sia nata o sia morta alla fine si misurano sui fatti politici cioè ci può essere uno slancio iniziale una condivisione di idee poi bisogna vedere come ti comporti in particolare come ti comporti quando hai delle emergenze che sicuramente lui ha trovato tra l'altro quando parliamo di accountability siccome tutti qui sappiamo le assunzioni che ha fatto Alemanno mentre era sindaco che vuol dire rendi conto della responsabilità questa parola che non ha una traduzione vera e propria ed è significativa se tu rendi conto della tua responsabilità no voglio dire se di quell'assunzione ovviamente non è responsabile Ignazio e Marino se uno mi assume mille non so quanti mille persone in un'azienda che già ha un buco di bilancio pazzesco e che comunque la qualità del servizio non è certo buona pensa ai trasporti si però non mi ha risposto è solo o no Marino viene misurato sui risultati anche dal PD è un dirigente del Partito Democratico però non è che il fatto di essere un dirigente del Partito Democratico ti scusi qualsiasi comportamento quindi verrà misurato sui fatti chiarissimo ci dobbiamo fermare per la pubblicità poi torniamo a parlare comunque della necessità della condanna di Renzi alla velocità e anche oggi vediamo se è così veloce in realtà ci ha messo un po' però su questo a fare i sottosegretari il Consiglio dei Ministri di oggi fa anche i sottosegretari quanti saranno dopo la pubblicità allora di nuovo in studio Fabrizio Rondolino dicevamo questa autocondanna di Renzi alla velocità però oggi forse il primo Consiglio dei Ministri voleva fare qualcos'altro invece deve fare Salva Roma e sottosegretari come ti aspetti che sarà questo schema dei sottosegretari e soprattutto questa condanna alla velocità è effettivamente cioè è dettata dall'europea è dettata dalla concorrenza di Grillo dall'emergenza è letteratura anche un po' beh no è molto letteratura che lui stesso naturalmente contribuisce è dettata dal secondo me principalmente dal fatto che il sistema politico italiano il ceto politico italiano il sistema politico mediatico italiano è strutturato in modo tale per cui veramente chi si ferma è perduto cioè le forze della conservazione che poi dette così sembra che ci sia una cupola gente che si riunisce invece no sono come dire un sistema sempre più feudalizzato in cui ciascuno pone resistenza per pura inerzia cioè semplicemente esserci un elemento di resistenza in questo sistema la rapidità con cui lui si muove è esattamente quella è una necessità non soltanto di comunicazione ma ripeto anche proprio d'altra parte ma è perché ha 60 giorni di luna di miele come si dice lui deve fare tutto non ha nemmeno la luna di miele perché lui ha deluso i renziani perché è andato al governo senza passare per le elezioni sta sull'anima al polito democratico come abbiamo ovviamente visto a parte naturalmente i presenti come abbiamo visto il dibattito parlamentare ci avrà st'accordo con Berlusconi sulla riforma elettorale però da lì a dire che un berlusconiano ce ne corre Alfano è terrorizzato perché lui è completamente solo lui è completamente solo questo gli dà una forza e naturalmente gli dà anche una debolezza risponde a questo con questa estrema velocità perché appunto chi si ferma è perduto tra l'altro secondo me lui moltiplicherà queste sue visite lui a Palazzo Chigi non ci andrà proprio io mi sono fatto quest'idea di Matteo Renzi ma come ha da fare tutto questo e c'è Del Rio Del Rio fa se smazza tutta questa cosa e lui fa marketing andrà in giro anche nel nord ha cominciato dal nord come dire insidia oltre che il Movimento 5 Stelle anche la Lega pone un problema ulteriore di competizione il problema se insidio o non insidia altre forze politiche è se fa o non fa le cose non se va o non va in una scuola il problema di questo momento del Paese è avere risposte non avere l'ennesimo diciamo vetrina mediatica per un nuovo Presidente del Consiglio infatti ho sentito il dibattito che stavate conducendo la fretta di Renzi vorrei sapere però a cosa è finalizzata perché per adesso di fretta ne ho sentita molta nelle parole non ne ho vista nessuna nei fatti io ricordo che Renzi non più tardi di una settimana fa adesso ah no non c'è dubbio però io ricordo che Renzi eletto segretario del Partito Democratico aveva detto che il 16 gennaio quindi non ancora in vista della Presidenza del Consiglio presentava il Jobs Act perché la prima cosa che doveva fare il Partito Democratico è affrontare il problema del lavoro nel mentre la Lega ha presentato la sua proposta di riforma del lavoro stiamo ancora aspettando quella di Renzi io capisco che è più semplice fare il titolo da giornale ma dopo finire là e non mettere dentro alcun tipo di contenuto concreto però penso che sia finita l'epoca dei proclami adesso se Renzi parlasse un po' di meno e facesse un po' di più sarebbe cosa utile perché oltretutto vorrei capire in questo Consiglio dei Ministri se non portava i sottosegretari e Salva Roma cosa portava Renzi perché ho sentito ripeto molti annunci ma nulla di concreto se non la legge elettorale mirata a garantirsi più poltrone possibili ai due partiti di maggioranza relativa Piano c'è questo problema di aspettative perché naturalmente dire devo fare in fretta farò in fretta farò subito mettere le date e così poi diventa però anche una come dire carica di aspettative tutti quanti anche gli oppositori che stanno lì aspettano proprio la violazione dell'agenda e del timing saremo un paese strano se di fronte ai problemi che abbiamo non avessimo aspettative per un nuovo governo abbiamo dei numeri da far accapponare la pelle di disoccupati precari a proposito di disoccupati sono contenta che abbia citato perché è arrivato un dato del 2013 dell'ISTAT i disoccupati nella media del 2013 hanno raggiunto quota 3,1 milioni con un aumento del 13,4% rispetto al 2012 secondo l'ISTAT quasi la metà dei disoccupati risiede nel mezzogiorno e se di fronte a questo e tutti gli altri dati che tutti conosciamo non avessimo aspettative su Matteo Renzi saremmo dei pazzi dopodiché Massimiliano Fedriga sa benissimo che se in questo paese oltre a fare le proposte che servono per la riforma del welfare del lavoro economica finanziaria fiscale non affrontassimo in parallelo le riforme strutturali cioè legge elettorale Parlamento titolo quinto perché? perché noi siamo abbiamo un governo Renzi che non è passato per le urne un governo Letta che non era quello indicato nelle elezioni un governo Monti che era un governo dell'argentese perché abbiamo una legge alla quale consapevolmente la Lega diede il proprio voto favorevole cioè il Porcellum una legge costruita secondo me a tavolino comunque anche se non costruita a tavolino il cui risultato era quello di non avere maggioranze stabili cioè non solo quello di portare a governi deboli e instabili ma quello soprattutto di non portare a soluzioni perché se tu non hai un governo la cui linea politica sia sostanzialmente omogenea o comunque largamente omogenea tu non riesci a prenderli i provvedimenti come abbiamo visto i provvedimenti che servono per cambiare quindi si sta dicendo che rimarrà la tempistica che era stata fissata cioè che la prossima settimana poi mi sembra che la legge elettorale arriva un passaggio decisivo già alla Camera dopodiché è evidente è evidente che la velocità è anche la cifra di Matteo Renzi che è anche uno che secondo me giustamente vuole essere completamente diverso dal passato ora non credo che lui lo faccia perché ha un'aspirazione diciamo così estetica tipo futurismo perché gli piace l'estetica della velocità perché sa che se lui non avesse la velocità che ha promesso sarebbe bruciato come quelli che l'hanno preceduto Andrea Romano la velocità Posso fare una precisazione? Sì certo Sì velocemente poi sentiamo anche Romano Soltanto per dire che è velocissimo soltanto dopo uno ovviamente anche io non ero anzi non ero assolutamente innamorato del Porcellum però dire che non dava governabilità mi sembra un po' strano visto che quando sono successi i problemi alle maggioranze precedenti non veniva dalle coalizioni del Porcellum o da qualche strano partito minore che se n'è andato ma è venuto per esempio l'ultima volta da un membro del partito di maggioranza che si chiama PDL in seconda cosa per quanto riguarda la disoccupazione così magari facciamo anche qualcosa di costruttivo in direzione televisiva se posso dare un consiglio alla maggioranza l'unica cosa che possono fare per affrontare immediatamente il problema della disoccupazione e parlo quindi di avere risposte in brevissimo tempo e abolire la riforma Fornero per riaprire il mercato del lavoro a nuovi ingressi risolverebbero così anche la questione drammatica degli esodati è l'unica via cugno fiscale importantissimo ma i riflessi sarebbero nel medio periodo perché devono recuperare competitività le imprese allora esodati sta nella riforma Fornero delle pensioni che se la tocchiamo credo che succeda una tragedia io sto parlando proprio della riforma delle pensioni devono abrogare la riforma delle pensioni Fornero sicuramente le pensioni le lascerai stare sono state toccate anche troppo anche con qualche errore come naturalmente il caso della Fornero ma quella non mi pare la vera emergenza sul tema della velocità non credo che la questione sia Renzi o non Renzi è che tutti noi non abbiamo alternativa a andare molto velocemente io vedo il governo Renzi al di là della simpatia o meno che ho verso Renzi e ce l'ho la simpatia personale anche politica questa è veramente l'ultima occasione che ha questa stagione politica e questo Parlamento tra l'altro è un Parlamento formato in grandissima parte da persone che non c'erano nella scorsa legislatura quindi non è che come dire al di là di quello che facciamo nella vita abbiamo esigenza di fare bella figura abbiamo sicuramente urgenza di produrre qualcosa e Renzi con anche come dire un po' la forzatura che ha rappresentato la sua andata al governo di Julio Consapevole è davvero l'ultima occasione però e qui vengo alla domanda del nostro della nostra il titolo della puntata di oggi dove li trova poi la domanda che viene fatta elettorale le aspettative maggiori sono quelle scritte lì nel cartello dietro di me due indicazioni a parte che ci sono alcune ipotesi ma già ascoltando l'intervento di Renzi in Parlamento ci sono state due indicazioni secondo me importanti una è la Cassa Depositi e Presti la Cassa Depositi e Presti di cui parliamo un po' poco però è una cosa una specie di come dire pachiderma gigantesco che un po' somiglia fatto dei soldi dei risparmiatori un po' somiglia a vecchia Iri in qualche modo un po' è fatta dei soldi dei risparmiatori ma certamente è un polmone finanziario gigantesco ora è chiaro che non è un salvadanaio da rompere le monete possono essere utilizzate così anche perché l'Europa non ce lo permetterebbe però nel mentre ridiscutiamo con l'Europa il rapporto tra quello che noi ricaviamo e quello che noi riceviamo e quello che spendiamo certamente da lì possono venire delle risorse lo stesso Bassanini è sembrato che è il Presidente della Cassa Depositi l'altro elemento è certamente il meccanismo della crescita perché noi parliamo la domanda dove li trova si riferisce a una torta che ferma e che sappiamo essere una torta piccola ma se rimettiamo in moto i meccanismi della crescita le risorse arriveranno allora lì la questione su cui io sono molto in disaccordo con Fedriga la questione urgentissima certamente gli esodati sono un'emergenza a cui dobbiamo ancora continuare a trovare soluzioni ma il vero punto è l'IRAP perché se noi interveniamo sulla tassa che dobbiamo ricordarlo impedisce alle imprese o meglio scoraggia le imprese ad assumere ed è una tassa demenziale che è stata anche riconosciuta come un errore da chi le introdusse se noi interveniamo lì radicalmente diminuendo l'IRAP certamente diamo però vediamo che fino adesso Renzi anche in tutti i discorsi che ha fatto non ha scelto non ha scelto se IRAP se IRPEF non ha scelto se tagli di spesa o se aumentare le rendite ora vediamo i provvedimenti però io vedo abbiamo portato questo lancio di agenzia dell'ANSA che è molto significativo e che è destinato sicuramente a fare a essere una nuova grana per questo governo perché è arrivata la richiesta dall'Europa da Bruxelles è arrivata la richiesta di chiarimenti sulla famosa rivalutazione delle quote di Banca Italia oggi devo dire c'era un pezzo molto approfondito su questo sul Repubblica di Federico Fubini che annunciava insomma diceva che la lente dell'Europa si era accesa perché può prefigurare la forma di aiuti di Stato naturalmente siccome è stato un tema politico molto caldo questo e soprattutto questa rivalutazione delle quote non intestabile a Renzi non intestabile a Renzi assolutamente no però è stato votato dal Partito Democratico nessuno ha battuto ciglio è venuto il responsabile economia della segreteria Renzi Taddei nei nostri programmi qui alla Sette a dire che andava bene quindi attenzione a dire non da questo governo una buona parte del governo lo ha votato e soprattutto una parte delle coperture perché era accoppiato così ingiustamente all'Imu perché serviva a copertura dell'Imu quindi mi sembra un grande insomma un temone questo qui il Tesoro l'ha confermato la richiesta di chiarimenti è arrivata e le fonti del Tesoro lo confermano adesso l'Unione Europea nella lettera c'è scritto noi dobbiamo valutare se si tratta di aiuti di Stato alle banche il che poi rischia anche di dar ragione agli inquieti grillini non so però allora vorrei sentire proprio su questa notizia che cosa dice anche Fedriga e poi prego Fedriga guardi io per quanto indipendentemente dalla notizia io penso che dobbiamo cominciare a fregarcene di quanto ci dice l'Europa perché l'Europa ci aveva anche comunicato e se si abbiamo risolto sai perché ci aveva anche comunicato no no permetti ci aveva anche comunicato quando noi eravamo in governo di fare quella riforma delle pensioni di cui parlavamo prima noi abbiamo detto che facevamo cadere il governo se quella riforma veniva fatta è arrivato Monti il partito democratico ha votato compattamente la riforma delle pensioni fornero e quindi su queste che dopo il problema di quanto ha fatto il governo su Maticità non si sa dove sarebbe arrivato però Fedriga se non si fosse fatta quella riforma lì guardi non mi dica che lo spread non è niente perché no no non dico che non è niente dico solo che drammaticamente e lo dico drammaticamente lo spread non è direttamente correlato alla riforma che fa il singolo paese e sai perché glielo dico perché guardi a caso questo lo diceva Tremonti abbiamo tutti pagato le fantasie di Tremonti mi scusi mi scusi facciamo finire Fedriga però le devo chiedere di essere finisco dopo Romano può parlare tranquillamente e illuminarci con la sua sapienza però se mi fa finire grazie no no infatti guarda caso lo spread è andato di pari passo in tutti i paesi che sono stati assaliti dalla speculazione e parlo di Francia Italia Germania Portogallo e non è che insieme tutti facevano la riforma delle pensioni e lo spread quindi scendeva non è così non è così quindi dobbiamo dire la verità ai cittadini e finirla di dire che è stata fatta la riforma delle pensioni per salvare lo spread e salvare i conti del paese è stato un massacro verso i cittadini ma non solo è stato spostato il costo sociale dalla previdenza pubblica all'azienda privata perché un lavoratore in là con gli anni costa 2,5 volte in più rispetto al giorno che entra quindi è stata indirettamente una riforma non ritorniamo alla fornale non possiamo niente perché dobbiamo dare la pubblicità ma subito dopo certamente tutti potranno rintervenire a fra poco restate con noi buongiorno ci sono una discreta quantità di nuvole sull'Italia queste che vediamo grigie senza quel colore azzurro che segnala le nuvole più fredde più sviluppate quindi più intense vedete che ci sono soprattutto sulle zone centrali su parte del nord è diciamo un tempo appena un po' incerto non particolarmente perturbato però nell'angolo in basso a destra si vede quest'ampia zona di nuvole molto intense calcolate che ogni puntino colorato è un nucleo temporalesco tutta la zona è grande 5 o 6 volte quella che voi vedete quindi va dal nord Africa alla Turchia ed è quella che è passata ieri in realtà sull'Italia senza dare fenomeni particolarmente intensi l'arrivata sullo Ionio sul Mediterraneo orientale si è intensificata ma veramente nel giro di pochissime ore questa però è ormai il passato per noi il futuro è questo vale a dire queste nuvole più intense che stanno di nuovo entrando dalla porta di nord ovest e così come ci si aspettava la linea è quella di oggi un tempo incerto domani un tempo perturbato e poi piano piano il tutto si attenua lo vediamo attraverso le nostre carte la previsione per la giornata di oggi che se ricordate avevamo detto non è tutto insieme nel senso che le piogge del sud erano quelle residue di questa mattina che ormai sono sono passate poi vedete che c'è una certa nuvolosità con le piogge sulle regioni centrali che passerà poi al sud ma nel frattempo entreranno le altre quindi è una successione continua gli intervalli sono veramente piccoli corti poche ore quindi nel complesso nel corso della giornata di oggi c'è il nuovo peggioramento che prende il nord ovest poi va a prendere il centro e poi alla fine arriverà anche al sud quindi è una giornata di transizione in qualche modo la giornata di domani già un pochino avanzata quindi già vi ho segnalato diciamo il miglioramento comunque l'attenuazione dei fenomeni su tutto il settore occidentale mentre dal nord-est alle regioni centrali al sud resta questa situazione di maltempo di pioggia anche di una certa consistenza tutto questo maltempo si sposta lentamente verso sud-est per cui domenica saranno liberate in qualche modo le regioni settentrionali a parte qualche pioggia residua sulle regioni di nord-est le regioni centrali ma direi Lazio e Abruzzo perché già Toscana Umbria e Marche saranno un po' al di fuori avranno piogge residue resta il maltempo al sud soprattutto sulla zona tirrenica più che su quella adriatica e anche questa situazione si attenuerà ma lunedì si ricomincerà di nuovo quindi ci sono solo brevi intervalli vediamo che cosa succede nel campo delle temperature la tendenza complessiva venerdì sabato e domenica è questa leggeri aumenti al nord leggeri diminuzioni al sud ma parliamo sempre di piccole variazioni e poi la carta successiva ci dà sabato domenica e lunedì come complessivo della variazione adesso vediamo se arriva comunque eccola qua vedete leggeri aumenti ovunque e poi quella successiva domenica lunedì e martedì quindi vedete un po' come cambia la situazione leggere diminuzioni però leggere salite leggere diminuzioni fa sì che queste oscillazioni delle temperature siano più o meno fisiologiche e a questo punto non molto visto che insomma marzo ci siamo non molto lontane da quella che dovrebbe essere la media prevista per questo periodo dell'anno in questo in questo campo quando siamo in media è la cosa eccezionale perché di solito si sta o al di sopra o al di sotto a scelta arrivederci allora Paolo Sottocorona ci ha spiegato com'è il meteo però abbiamo ancora un po' di tempo per parlare dell'altro fatto di questi giorni di queste ore ovvero Movimento 5 Stelle questa diaspora dentro i gruppi parlamentari naturalmente ieri Beppe Grillo chiedo a Rondolino di fare un po' un quadro Rondolino ha detto si Rondolino Grillo ha detto via i parassiti dal Movimento allora questa linea intanto però questa cosa tu conosci molto bene il Partito Democratico nelle sue varie ramificazioni questa cosa ha creato tutto un subbuglio tutti si augurano che facciano un gruppo parlamentare magari con SEL magari insomma che si possa fare una terza maggioranza per Renzi e poi qualcuno invece dice no guai se Renzi fa anche la terza maggioranza oggi lo dice il giornale insomma quali aspettative anima e soprattutto poi va bene questo movimento a livello parlamentare si traduce secondo te in riflessi sull'elettorato di Grillo sì effettivamente ma io direi così che questo è un effetto la disintegrazione è una parola forte ma insomma lo smottamento dei 5 Stelle è un effetto è uno dei tanti effetti di Renzi cioè la forza politica di Renzi si misura anche sulla capacità diciamo di rimbalzare in schieramenti e in forze politiche anche lontane o anche molto lontane detto questo io vedo una saggezza nella posizione di Grillo anche se viene accusato giustamente di essere un dittatore perché il Movimento 5 Stelle si pone oramai evidente si pone come un movimento rivoluzionario tra virgolette cioè che non accetta nulla delle regole delle procedure delle prassi non voglio dire versivo perché diventerebbe una parolaccia o una calumnia dico rivoluzionario e dunque ha bisogno di un nucleo d'acciaio siccome io penso che si vada nel prossimo anno alla battaglia decisiva che non è quella tra destra e sinistra perché centrodestra mi sembra tutto sommato marginale ma è quella tra Renzi e Grillo cioè due versioni diverse della rottamazione poi possiamo anche metterla così capisco perfettamente che nel momento in cui Renzi fa il salto di qualità cioè da capo popolo diventa capo del governo qualcuno in Parlamento può sentirsi più dall'altra parte ci deve essere dalla parte di Grillo ci deve essere una reazione di serrate le fila quello che credo poco è l'ennesima riproposizione della politica di Bassani perché poi alla fine di questo si parla cioè l'idea di prendere questi dissidenti con mal di pancia metterli insieme a qualche vendogliano e a Civati per fare qualcosa per fare qualcosa secondo me non funziona Fiano? No anche secondo me io non penso però ci sono alcuni dei vostri Civati Mineo Tocci ne siamo 400 ne stiamo citando due o tre no però stiamo citando quelli che al Senato magari potrebbero dare una mano per fare questo secondo me io mi sbaglierò ma siccome stimo e conosco Matteo Renzi lui non cade in questo errore di voler affidare il proprio futuro che immagina come un futuro decisivo per il Paese alla fuoriuscita di qualche di qualcuno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle fenomeno invece da guardare con attenzione io non dico di no anzi secondo me molto da guardare con attenzione secondo me come diceva Rondolino io penso che ci sia una sicura relazione tra l'ascesa di Renzi e quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle ho sentito lo diceva esplicitamente un senatore del Movimento 5 Stelle Renzi parla un linguaggio e cita temi e ha un target spesso simile al nostro insomma io penso che la distanza a prescindere dal valore delle persone tra Enrico Letta il suo coté culturale la sua preparazione il suo linguaggio e i 5 Stelle fossero a distanza siderale la distanza fra la capacità di interloquire con la pancia del paese di Matteo Renzi il suo linguaggio il suo essere totalmente non consuetudinario nei modi nella simbologia nella comunicativa e l'elettorato in Movimento 5 Stelle è molto più vicina non vuol dire che il Movimento 5 Stelle cadrà dimezzerà il proprio consenso non vuol dire questo però però lei dice un argine c'è nel in tal momento c'è uno al quale non possono dire tu sei come gli altri tu non rinuncia le cose ma glielo diranno sempre glielo diranno però lui intanto da un punto di vista già per te che metà di loro ha votato a favore dell'incontro quando Grillo pose i voti un momento soltanto perché lo volevo chiedere e poi lascio concludere Andrea Romano volevo chiederlo a Fedriga visto dalla Lega ah il collegamento no non mi sente Fedriga va bene allora mi dispiace perché era interessante ovviamente visto dalla Lega anche questo pasticcio caos 5 stelle però intanto non per togliere prego io penso che sia successo qualcosa in questo movimento 5 stelle nel senso che noi ci dimentichiamo che il voto che ha avuto Grillo non è un voto del tipo di quello che vediamo in Parlamento cioè in Parlamento vediamo i grillini che comunque qualunque cosa succede gli dicono siete dei ladri quel voto libri cioè gli italiani che hanno votato quel movimento non erano italiani col cortello tra i denti che volevano la morte della politica l'estinzione di tutte le democrazioni quindi alcuni di questi parlamentari effettivamente si ribellano a questo come dire atteggiamento dittatoriale di Grillo non soltanto perché quell'atteggiamento è antipatico ma anche perché pensano secondo me giustamente interpretare una richiesta di rinnovamento che non è quella del tanto peggio tanto meglio allora lì dentro c'è anche una roba diversa dal come dire dalla io lo uso invece il termine dalla violenza eversiva che c'è in quel movimento perché quella è una violenza eversiva anche fisica perché l'assalto che c'è stato alla presidenza della Camera al momento della tagliola era una violenza fisica di quel tipo lì quindi lì dentro ci sono delle istanze politiche che possono avere non so se possono andare a sostegno di Renzi però sono istanze anche civiche se vogliamo che possono avere anche una evoluzione diversa però sono poco significative poi sul piano vediamo intanto che sono poco significative anche perché molte di quelle persone di quei parlamentari sono anche persone per bene che sono state a volte come dire soverchiate dalla violenza di quelli più tipo un personaggio come Di Battista di cui spesso si parla è un guitto da teatrale c'è uno che ha una postura particolarissima che certamente ha più successo degli altri che magari sono più pacati io quelli più pacati li voglio vedere alla prova della politica voglio vedere che idee hanno e magari potrebbe anche uscire da quel movimento dalla parte più pacata di quel movimento una proposta di rinnovamento della politica molto più interessante bisogna vedere però il peso perché lì ovviamente la leadership di Grillo volevo sentire Federica che miracolosamente è stato ripristinato il collegamento allora Federica volevo chiedere anche a lei visto siamo in chiusura della trasmissione i 5 Stelle cioè quello che sta accadendo in Senato diciamo questo malessere dei gruppi parlamentari dei 5 Stelle come la vede lei potrebbero effettivamente dare una mano in qualche modo a Renzi e significativo di un problema del movimento 5 Stelle che ci sia un problema non c'è dubbio comunque io cerco sempre di portare grande rispetto anche per scontri accesi che ci sono all'interno dei movimenti politici perché sono una loro questione ed è giusto che la risolvano nei migliori dei modi e non vorrei speculare su questo detto ciò mi dispiace personalmente anche per aver visto come alcuni colleghi lavorano per quanto riguarda almeno l'attività della Camera che qualcuno sia stato additato quale parassita io penso che ci debba essere come giusto che sia in ogni realtà politica il dibattito anche acceso anche lo scontro però ecco andare sul personale e incominciare ad accusare personalmente dei soggetti che oggettivamente non hanno fatto nulla di male mi sembra se non esprimere un'opinione che si può non condividere non si può non condividere ma incominciare ad attaccarli personalmente mi sembra scorretto anche perché alcuni di quelli che ho sentito essere attaccati sono tra quelli che magari vanno un po' meno in televisione ma fanno grande attività all'interno delle commissioni dei 5 stelle e quindi lavorano in modo silenzioso ma molto approfondito è così esattamente quello che anch'io provavo a dire cioè le persone più io dicevo più pacate ma Federica giustamente ha usato il termine più capaci sono quelle che pagano lo scotto come dire di non essere quelli che alzano la voce e che non fanno cagnare è una dinamica classica dei movimenti rivoluzionari nella storia c'è un'avanguardia che non permette che venga messa in dubbio la forza del proprio essere la prima linea dietro spesso ci sono quelli che hanno più allora io vedo Mirta Merlino pronta in collegamento pronta per cominciare la puntata di oggi dell'aria che tira sicuramente piena di ospiti temi sono tantissimi Mirta beh sì insomma diciamo che abbiamo lo scontro Marini-Renz su cui torneremo raccontandovi anche un po' di storie che riguardano il comune di Roma e i suoi numeri abbastanza incredibili e fuori controllo poi abbiamo invece il tema del Consiglio dei Ministri che è in corso in questi minuti usciranno i nomi dei 45 pare sottosegretari insomma ragioneremo anche su quello Cencelli ci aveva detto in un'intervista molto divertente che Renzi avrebbe avuto un bel da fare con i sottosegretari per accontentare tutti mi pare che stia capitando e poi abbiamo anche perché se posso se posso solo dire una cosa abbiamo ricevuto un sms da un insider e alla domanda come va con i sottosegretari la risposta è stata caos sono le 10.51 quindi faccio questa rivelazione però mi sembra significativa hai fatto bene a dirmela così vediamo di zigare anche perché avremo con noi Francesco Boccia che è il presidente della commissione del bilancio della Camera avremo Ernesto Carbone poi avremo Teresa Meli che oggi racconta in maniera molto divertente la telefonata terribile fra Marino e Renzi in cui Renzi pare l'abbiamo andato a quel paese di brutto poi avremo Cicchitto poi avremo Tommaso Cerno Alicia Ronzulli e poi abbiamo un collegamento con la Paola De Pini ve la ricordate quella senatrice che era stata molto criticata dai suoi in maniera molto violenta quando aveva votato all'epoca la fiducia ad Enrico Letta oggi ragioniamo un po' con lei per capire cosa sta capitando quanti sono come si stanno muovendo questi transfughi del Movimento 5 Stelle io vi aspetto allora benissimo diamo naturalmente tra pochissimo proprio la linea all'aria che tira c'è giusto il tempo per salutare i nostri ospiti per dire che sono arrivate molte mail sulla questione scontro Renzi-Marino insomma sul Salva Roma e anche poi alla fine inevitabilmente sul dramma del comune insomma tutti i guai e i disservizi e poi c'è anche chi si concentra sul titolo dove li trova Renzi-Sodi c'è un polemico Beppe che dice facendo come negli sconti autunnali prima si aumentano i prezzi poi velocemente si applicano gli sconti e insomma chiudiamo su questo sperando che non sia così naturalmente grazie ai nostri ospiti buona giornata a tutti Linea Mirta Merlino Buon giorno grazie a tutti lee buona giornata a tutti grazie a tutti Anya con